Ecco, come mai la scelta di affidare a Giuseppe Bifulco la carica di direttore sportivo? No, a prima di tutto perché la carica di direttore sportivo non c'era nell'organogramma, quindi è ora di metterla per rafforzare la società. Poi Giuseppe Bifulco è un po' i casi della vita e io prima di dare questa carica avrei voluto trovare una persona che rispondesse un po' a quello che sono i nostri programmi e con cui essere in sintonia, avere delle affinità. Quindi ho trovato questa persona che ha soprattutto lavorato molto nel settore giovanile, e quindi noi abbiamo questa intenzione di rafforzare moltissimo il settore giovanile nel futuro. E' chiaro che lavorare nel settore giovanile vuol dire avere una proiezione avanti con gli anni perché non è che dia subito i frutti, quindi è un lavoro di lunga lena e quindi ho pensato che ci fossero tutte le premesse per cominciare una strada insieme. Abbiamo fatto un contratto di un anno, quindi lavoriamo insieme, ci conosciamo e penso che porterà delle cose positive al Benizona. Anche a livello di mercato fungerà questo tipo di funzione? I direttori sportivi fanno anche quello, non è una novità, quindi anche a livello di mercato poi interagirà con l'allenatore e con altri consulenti miei che hanno fatto nel passato politica di mercato. Ecco ovviamente visto anche i giocatori sono arrivati finora a Bellinzona pensiamo che l'attenzione al mercato svizzera sarà ancora affidata alla parte Andermatt lui avrà una concentrazione più italiana oppure questo ecco non preoccupare? Ma io non vorrei che ci fosse una parte Andermatt, una parte... cioè ci deve essere un'unità di intenti di tutti quanti quindi non c'è una parte Andermatt, una parte Bifulco, una parte Giulini, no? Cerchiamo di essere tutti uniti come una squadra perché altrimenti i clan sono quelli che poi distruggono le organizzazioni. Con Giuseppe Bifulco abbiamo accettato pienamente quella che è la nostra visione cioè di rafforzarci moltissimo con giocatori svizzeri questo è la nostra giovani svizzeri, giocatori svizzeri e poi con qualche inserimento uno o due elementi anche che possono venire dall'esterno però il nocciolo duro deve essere svizzero. Non si tratta quindi di dividere il potere magari che aveva assunto la figura di Andermatt? Ma no, ma Andermatt è il suo allenatore, il suo allenatore tecnico hanno portato una politica buona di giovani che adesso abbiamo, che sono da valorizzare quindi assolutamente no, non è un contropotere è un'integrazione di una posizione di cui la società ha bisogno per essere una società forte per il futuro anche. Tornando al campo, che cosa le ha lasciato il pareggio di Sangallo? Beh, il pareggio di Sangallo mi dispiace che siamo stati superati la cosa positiva è che il Ticino ha due squadre lì, questa è una cosa molto positiva quindi non vediamo soltanto ognuno della propria rispettiva parrocchia della propria squadra è positivo che il Ticino abbia espresso due squadre che sono lì a lottare per salire in Challenge League io sono molto contento di questo faccio anche i complimenti al Lugano, ai suoi dirigenti, all'allenatore hanno fatto un ottimo campionato e spero che lo parlo con molta sincerità a questo noi certamente avremmo avuto qualcosa in più quindi tutti quanti, sia dall'allenatore sia tutti quanti speravamo qualcosa in più quindi adesso avremo tempo di analizzare in questo momento siamo le 5 partite davanti quindi mettiamo tutte le nostre energie su queste 5 partite per cui anche il derby proprio con Lugano per cui anche il derby con Lugano che sarà una partita molto interessante spero che si svolga nella migliore atmosfera e quindi vediamo non possiamo più sbagliare se vogliamo andare in Super League se sbagliamo vuol dire che non ci meritiamo di andare in Super League e quindi rifarremo la scalata l'anno prossimo non ci sono altre alternative per quanto riguarda lo stadio visto che ci sono state le elezioni comunali si parlava di cambiamenti possibili in seno alla volontà popolare ecco, com'è la questione stadio? a livello politico abbiamo penso che si sono stati confermati gli uomini che sono favorevoli al progetto poi sarà la cittadinanza poi anche ad esprimersi comunque per il momento penso che le situazioni sono favorevoli poi vediamo l'Italia è ancora abbastanza lungo con dei fattori che non dipendono unicamente da noi quindi però abbiamo la politica da nostra parte speriamo quando faremo la presentazione alla cittadinanza che anche la cittadinanza ci segua e poi se ci sarà qualche opposizione siamo in un paese dove c'è democrazia diretta affronteremo lo scontro non c'è problema comunque le cose vanno bene volevo farevi complimenti comunque perché voi di Teleticino avevate anticipato questa conferenza stampa di qualche settimana o di qualche giorno di qualche giorno comunque complimenti a voi perché siete siete forse più più informati del presidente spesso si è dibattuto qui a Bellinzona di chi arrivava e non conosceva a fondo il calcio svizzero ecco questo è un fattore penalizzante oppure questo non inciderà comunque sul suo lavoro che affronterà a Bellinzona la precisazione è che comunque è vero posso non conoscerlo a fondo ma comunque una buona una sufficiente conoscenza del calcio svizzero però l'obiettivo che ci siamo posti è quello di di andare ad integrare quanto già in essere in questo momento e magari proprio per per parlare per trattare questo argomento che è che è l'area un po' di scouting di ricerca e di monitoraggio del territorio quindi del calcio direi che ci stiamo attrezzando in questo senso quindi cercheremo di arruolare risorse che avranno specifiche competenze in tal senso oltre che conoscenze del territorio il mio sarà un contributo insomma a capo di questo sistema che deve funzionare in un determinato modo dove magari la mia esperienza valutativa rispetto a quello che viene proposto possa essere messa a disposizione di una struttura adeguatamente concepita e è in animo da parte nostra avviare una serie di attività affinché affinché un'area scouting ben strutturata possa avere ragione di esistere da qui a breve e per gli attori coinvolti in quest'area scouting saranno sicuramente persone che avranno loro specifiche conoscenze e competenze in ambito territoriale e quindi di campionati svizzeri piuttosto che in ambito di conoscenza di giovani di assoluto valore anche perché come accennavo prima il calcio va in questa direzione dove i giovani trovano sicuramente la consagrazione rispetto al fatto che comunque non dobbiamo perdere di vista il conseguimento del risultato anche economico il famoso equilibrio tra costi e benefici è anche salvaguardato da questo tipo di attività per cui stiamo andando in quella direzione che passerà sicuramente attraverso l'individuazione o comunque di mettere a disposizione di quanto già di competente è in essere individuare delle risorse che ci daranno sicuramente una mano ma anche a me principalmente mi daranno una mano perché per quanto possa conoscerlo perché comunque ho fatto quattro anni il capo scout della Roma quindi so benissimo a livello di conoscenza ma magari la competenza specifica nel calcio svizzero che mi venga supportata da qualcuno competente in materia io sto qui lo colgo a braccio aperto ecco abbiamo capito che buona parte del suo lavoro consisterà in questa visto anche il suo passato come diceva lei alla Roma per quanto riguarda un occhio di riguardo al settore giovanile e allo scouting ci saranno altri compiti in seno alla prima squadra visto che comunque lei assume il ruolo di direttore sportivo altri compiti che mi riguardano che riguardano la prima squadra la squadra principale al fianco di Martin Andermatt sicuramente io sto a disposizione dello staff tecnico della prima squadra che peraltro mi sembra che sta procedendo anche abbastanza bene magari non perfettamente in linea con le aspettative di tutti quanti ma sicuramente l'obiettivo è ancora raggiungibile certo che tutto dipenderà da che tipo di risultato sportivo sarà raggiunto a fine anno quindi io quello che dico come ho già detto a tutte le parti chiamate in causa che è importantissimo in quest'ultimo periodo in queste cinque partite concentrarsi sul consolidamento sul raggiungimento del massimo risultato sportivo che possiamo conseguire questo è utile per due motivi uno per la causa Bellinzona ovviamente che è primaria rispetto a tutti e secondo è utile anche per se stessi per mettersi in condizioni di chi come me è nuovo e poterli valutare non è che adesso cinque partite però è già un po' che si conoscono c'è il contributo dell'allenatore ci saranno una serie di considerazioni fatte per quello che è stato prima per quello che ho visto in questo mese per quello che vedrò in quello successivo dopo di chiedere e in funzione del risultato sportivo conseguito tireremo fuori delle conclusioni che saranno sicuramente utili in funzione di un campionato che può vederci partecipi in Challenge League piuttosto che in Super League questo dipende un po' ma è chiaro che determinate valutazioni anche prospettiche vanno fatte sulla base di quelli che sono i risultati conseguiti in quest'ultimo periodo è inevitabile questo ecco infatti il campionato svizzero fra cinque giornate andrà lo spareggio senza contare lo spareggio andrà in vacanza ma poi bisogna cominciare subito a lavorare per la stagione che inizierà già a metà luglio ecco questo lei parteciperà a questa costruzione della prossima squadra assolutamente sì ed è già in atto una prima fase che è quella della valutazione dell'organico in essere in questo momento questa è già una fase una prima fase di quello che sarà ed è importantissimo questo perché ci aiuterà a prendere determinate direzioni sulla base ripeto di un campionato piuttosto che un altro ma delle direzioni rispetto a chi dovrà eventualmente integrare quello che l'organico che attualmente è in essere ma questa è già una fase preparatoria questi primi giorni visto che lei ha seguito anche la partita di Sangallo che idea si è fatto della squadra allenata di Martina Andermatt beh io ho visto dal vivo le ultime quattro partite del Bellinzona ho visto tutti i DVD di tutte le partite del campionato mi sono fatto un'idea che la squadra non ha conseguito quello che effettivamente ha di potenzialità adesso non so per quali motivi ma sicuramente è inutile andare ad analizzare sicuramente sarà un'analisi utile ma comunque è inutile mettere energie sul perché il percomo è stato fatto non è stato fatto una determinata cosa quello che conta è che le potenzialità per far bene anche per gettare le basi per il futuro indipendentemente dal campionato che faremo ci sono per cui io credo il messaggio che do a tutti quanti è di concentrarci in questo momento nel raggiungimento dell'obiettivo questo passerà sicuramente attraverso le performance di ognuno di noi dai giocatori dall'allenatore da chiunque è chiamato in causa tanto più saranno alte queste performance tanto più saranno di doppio aiuto e per la valutazione di chi come me è preposto a gettare le basi come già abbiamo cominciato a fare e per chi come il presidente è chiamato ad investire su questi tipi di indicazioni che un direttore sportivo gli può dare ma il direttore sportivo nella sua funzione è diciamo così il il sunto di una serie di espressioni che vengono a manifestarsi quotidianamente per cui io non faccio altro che valutarle e soprattutto rapportarle a quello che è il risultato sportivo che la società chiede è ovvio visto che oltre ad avere un passato la Roma in altre società anche a Napoli lei ha un passato anche da arbitro a Sangallo Bellinzona c'è stato qualcosa da recriminare in casa Granata io dico che intanto ho visto comunque a prescindere dagli errori un buon arbitro espressione di una buona classe arbitrale e di questo faccio i complimenti a chi designa a chi li forma e a chi li gestisce è ovvio che possono capitare dei piccoli incidenti di percorso come capiterà a chiunque di noi è chiamato a svolgere una funzione nell'ambito di questo sistema calcistico confido io parto dal presupposto ma non perché mi appartiene in passato ma perché comunque veramente sono cose che capitano e allora alla fine la superiorità si manifesta sempre e comunque a prescindere da altri questa è una mia particolare idea per cui credo che non può essere colpa di un errore arbitrale piuttosto che io dico che ognuno di noi se non ha nulla da rimproverarsi non deve mai attribuire ad altri determinate responsabilità per cui il messaggio che vorrei che passasse è questo qua è inutile che dico sì loro non è la rigore il nostro è la rigore voglio dire starei qui però voglio dire comunque l'arbitro è arbitrato bene comunque noi dobbiamo raggiungere un livello di mentalità superiore cioè noi dobbiamo manifestare la superiorità a prescindere dall'avversario a prescindere dall'arbitro a prescindere dalle circostanze ecco noi dobbiamo arrivare ad avere questo tipo di identità e chi sarà chiamato a recitare un determinato ruolo in questo ambito deve rispecchiare questo pensiero perché altrimenti è come se scarichiamo le responsabilità terze invece prima di tutto non dobbiamo rimproverarci nulla di aver fatto il massimo per ottenere poi le cose possono anche non essere raggiunte però non dobbiamo rimproverarci tutto questo ecco io credo che sabato scorso abbiamo dimostrato di essere un'ottima squadra al cospetto di una prima della classe che non mi è sembrato che ci fossero così evidenti dieci punti di di stacco ma è evidente che nella gestione arrivati fino a quel punto se c'erano evidentemente le gestioni sono state fatte in maniera diversa ecco allora noi partendo dal presupposto che un ottimo organico un'ottima squadra è ottimamente condotta dobbiamo evidentemente cercare di migliorare per fare in modo che questo non accada grazie 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 grazie